eccoci qua per chiara ciao elena conto da 51 come sempre 5 4 3 2 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 pasetti 3 14 15 15 allora mi fai dire lei in un'altra vita ma un uomo un uomo col cappello a un cappello e a piedi per strada cercando di capire che tipo di luogo è perché è una casa vicino a un prato una vita precedente dall'autorizzazione sì che a noi 1920 dove sta andando allora una specie di ma è così ho visto cosa quella casa sua vera era un dottore medico sta andando in paese a visitare i paesani c'è sì lui è già nel paese ma diciamo che è come se fosse la sua casa fosse un po alla fine del paese quindi sta andando a piedi verso il paese ma in mano questa borsa con dentro le cose di un medico qual è la ragione per cui ci fa vedere proprio questa vita che proprio presumibilmente quella prima se la dichiara non so quello che mi di quello che mi fa vedere è che lì è rimasto diciamo ha dedicato troppo è come se quello che ha imparato da quella vita è che ha dedicato troppo tempo agli altri nel senso facendo il medico lui è dedicato tutta la sua vita a fare il medico ed è rimasto non ha pensato a sé alla sua felicità diciamo ma solo ad aiutare gli altri quello che vuol far vedere che alla fine lui ha imparato visto che è rimasto solo solo nel senso la ps mi vuol far vedere che ha visto che quella una parte fondamentale della vita è realizzare anche la propria parte personale quindi affettiva perché aiuta la consapevolezza non rivoluzione e in quella vita lì come se fosse proprio dimenticata ne sta da parte ecco vibrazione dichiara 2,3 miliardi percentuale di consapevolezza 125 psp 3.862 vite precedenti 2324 cervello 9,2 ok chiara è soggetta a un progetto di interferenza sì come si chiama questo progetto metamorfosi chi te lo dice allora è arrivato insieme un leone insieme a un pleiadiano non volevi dirmelo no ma non è il biondo e il biondo e il biondo e il biondo o ashtar che magari gesù poi ashtar che lo sa vabbè diciamo che sono un po più scuri però no ma l'econografia esiguale identica volevano marca ha fatti vediamo una roba che non andava dentro poi chi c'è oltre leone player chi è sopra leone il pleiadiano no sono vicini li vedo su questa si sono presentati su questa base spaziale è come se collaborassero poi chi c'è poi c'è un falconiforme c'è un rettiliano sta guardando tipo una via di mezzo tra una luce tolla una rana e poi ci sono le dita mentale vediamola allora che livello 2 poi c'è un livello 3 livello 5 vediamole tutte con i compiti rispettivi allora quella di livello 2 è quella che mi fa vedere che la rende potrebbe dire confusionaria quando espone i suoi pensieri e le sue azioni ok quindi caotica esatto nell'esprimersi quella di livello 3 confondo che ti confonde loro nel senso che vi era molto chiaro prima adesso quando sto guardando cosa fa l'entità mentale livello 3 ancora di livello 5 e come se continuano a scambiarsi mattiglione ad eternum lì vicino così smettono di fare i giochini ok ok chiaro allora l'entità di livello 3 è quella che la rende diciamo che posso dire non morbida mi viene da dire morbida rispetto agli altri ma accomodante ecco direi più accomodante ecco quindi scendente discendente come tu mi vuoi mi viene no po con tutti con famiglia esterni tutti si lei si adatta esatto si conforma a quello che viene chiesto direi che è un po quello che è un po la la riprende un po dalla da quella vita la forse per questo me l'ha fatta vede adesso il collegamento è cioè che la vita del medico è stata dedicata se solo agli altri quindi no diciamo come medico e anche come aiuto era una richiesta dell'altro e il medico cercava di soddisfare la richiesta ecco qua mi sembra molto simile come fu come sottofondo no di di azione e poi quella di livello 5 collegata alla sua in generale alla sua sintomatologia fisica soprattutto per quanto riguarda il fatto che lei adesso in grassa e non gli è mai successo ok la 5 questa sì 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 è quella che incide sulla sintomatologia fisica ma se chiamiamo nel cinema il marito il figlio la famiglia in generale gli amici colleghi la vicina del reiki e la cognata molti c va accata si presentano tutti sì l'unica diciamo la cognata arriva e vuole stare vuole vedere senza nessun problema ma ha capito niente c'è arriva perché come se andasse al cinema ecco molto 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 distaccata da quello che vedrà ecco no 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 se viene si impara se no se ne va fuori ah no non nel senso che non impa non vuole imparare ma la vedo c'è è una cosa che ho visto io non ha proprio idea di quello che vedrà ecco beh se non ti piace quello che vedrà può andare con qualunque momento nel senso cinema non è la carità cinema si viene con le palle in mano se no si va fuori qui c'è c'è chi non c'è non c'è al meglio che questo non c'è più aiutami tu salvi il mondo cazzate del genere tutti fuori o tutti dentro metà metà non interessa che fa la cognata vuole stare o se ne va no se ne va a paura che sia troppo il figlio c'è sì 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 in prima fila col marito anche ok la fan degli angeli e del reiki c'è sì anche prima fila sicura perché scoprirà delle cose brutte si niente o letti dentro o fuori dentro si cambia fuori si resta ah no no va ok la famiglia non so la madre la madre in seconda fila molto interessata a quello che vuole mostrare chiara per vedere se poi può farlo anche lei qualcuno dirà come si duro lucio no non c'è più bisogno di gente che sta dietro agli angeli non c'è più bisogno di gente che ha l'informazione non la coglie chi se ne frega che ti dice che no che tu sbagli che no che devi pregare l'angelo che l'arcangelo gabriele tutto non ce n'è più bisogno c'era bisogno una volta forse si poteva accettare ecco bisogna una volta adesso non ce n'è più bisogno non si può più accettare non è più accettabile le informazioni sono tante troppe e queste cose sono estremamente deleterie per chi è lì 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 che sta per fare un salto corretto e che si farà capire per esempio chiara per esempio chiara che quando ha male alla schiena mal di testa e così via andava dalla vicina che con gli angeli reiki le sistemava tutto e anche il figlio piccolo cosa è successo in un caso lampante semplice esemplificativo in cui lei va dalla vicina che succede tecnicamente energeticamente descriviamo a rallentatore quello che succede ok lei va la fa la vedo una volta che la fa sdraiare sul lettino allora mentre la vicina fa impone le mani per riaquilibrare chacca per aprire il campo energetico e come se richiamasse proprio quelle vibrazioni vedo che in quel momento man mano che lei apre il campo come se ci fosse una corda no tiri sempre più vicino e tira sempre più vicine le interferenze che arrivano a prendere l'energia di chiara una volta che ha aperto il campo energetico le interferenze avvicinano iniziano a prendere l'energia allora li sono le sue interferenze quindi poi ce n'è c'è una mantide e un essere dal secondo universo edl elohim si elohim allora ecco perché io vedevo proprio mentre lei apre il campo è come se si aggiungessero dei canali energetici e sono siccome già prima quando ci descriveva come diciamo la stanza il posto doveva che pieno di questi angioletti ok ogni angioletto ogni figura è un edl diverso che può intervenire nel trattamento ok man mano che lei apre il campo si aggiungono e dl e in quella seduta lì dove sono arrivati appunto l'eloe e la mantide c'erano anche 25 dl che canalizzavano l'energia che loro prendevano man mano che lei muove le mani è come se facesse la forma della pasta da impastare no per fare il pane o che loro prendono cambia anche la vibrazione quindi a volte arrivano a seconda della persona che c'è sotto arrivano delle interferenze per quanto riguarda questa questa amica di chiara è questa vicina dichiara ogni volta cambiano l'interferenza ma il meccanismo suo è che arriva a seconda di chi c'è sotto c'è sempre vedo sempre la mantide e poi in questo caso c'era arriva l'eloe per quanto riguarda chiara e poi a seconda del soggetto cambia l'altra interferenza c'è sempre la mantide che è collegata direttamente alla vicina ma la signora che farei chi e poi arriva un'altra interferenza che viene richiamata a seconda della vibrazione che viene prodotta cause esoterica di vediamo se sono anche degli impianti dolore la schiena no 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 allora la schiena allora vedo però allora adesso no non c'è l'impianto però c'è il collegamento con delle action che hanno iniziato a farle in coincidenza di quando è iniziato il mal di schiena quindi quante sono al mese 20 cause esoterica di polini la gola quello è un impianto impianto e tirico che è collegato però l'impianto mentale e ho già visto prima che come se l'entità mentale di livello 5 tra tenesse a livello fisico tramite la gola no e quindi poi lei in grassa insonnia di ora per notte il sono a star c'erano insieme al leone che come se dovessero e vedo che come se la caricassero come se stessi in carica tutte le ore e quando dorme loro prendono l'energia quindi prima prima usciva a caricare come se per loro era sufficiente che si caricasse meno ore e poi che dormisse di più adesso invece è il contrario la sveglia come se la svegliassero prima perché deve ricaricare le energie della vita diciamo qua no quindi attiva la mente quindi con la mente le vibrazioni si abbassano e lei aumenta la energia che loro vogliono prendere più o meno una cosa così per questo che lei agitata e esatto bassa energia bassa memoria perché l'energia gliela portano via tutta e poi comunque a livello fisiologico ci servono un totore di sonno per riequilibrarci quindi le due cose assieme ovviamente lei a passa energia la memoria a memoria e la collego all'entità mentali che la tutte e tre direi a livello fisico quella di livello 5 quella di livello 3 livello 2 per far sì che lei agisca in questa mani si più livello 2 però che lei quando si esprime esprime caos per l'entità mentale di livello 2 utile che lei non si ricordi le cose ok quindi come se gli eletto agli esse e mettesse altre sbalzi d'umore allora allora ti descrivo il meccanismo le mandano degli impulsi in maniera tale che la sua emozione di colpo scenda di vibrazioni e quindi loro possono immagazzinare questa energia fa parte anche questo dell'esperimento del progetto ci sono dei tipi di di situazioni che loro prendono a che loro osservano molto attentamente dove lei a ci sono dei momenti dove la sua vibrazione va tanto su di colpo no quindi magari un entusiasmo improvviso o quando vede qualcuno magari che non vede da tempo questo è un esempio che mi è arrivato oppure qualcuno che le che le regala qualcosa che lei non si aspettava che le piace tantissimo queste sono cose che stanno arrivando adesso vedo che lei va su di vibrazioni improvvisamente loro prendono questa cosa e dopo poco e le fanno abbassare di colpo è come se le facessero arrivare un pensiero che le abbassa le vibrazioni tantissimo fanno questi esperimenti di delta di liberazione momento di peso e le piace mangiare ok ma non è così giustificato da si dire l'entità mentale di livello 5 che le fa trattenere tutto è un modo per destabilizzare la la destabilizza sia a livello emotivo di autovalutazione viene la parola una parola più precisa di autostima ok non mi viene la parola e sia per bloccarla fisicamente no quindi questa azione proprio per renderla più statica e meno dinamica acufene a lei si chiedeva perché soprattutto di notte diciamo che è un po l'effetto fisico delle abduction ogni tanto si infiamma l'orecchio intestino intestino lo vedo più legato a una parte emozionale quale qualcosa legato al figlio la sua alcune reazioni del figlio le fanno sentire come se lei perdesse il controllo della situazione quindi non riuscisse a trasmettere al figlio l'insegnamento come lei lo vede in maniera adeguata ecco questa cosa qua su durazione eccessiva allora come se la sua ps volesse spingere fuori buttare fuori quindi vedo da dentro che come se spingesse fuori le sostanze in eccesso sul suo corpo quindi questo aumentare di peso come se la ps cercasse di liberarsene spingendo verso l'esterno e quindi se attraverso i liquidi del sudore lei tentasse di buttarlo fuori incapacità da di ad andare in meditazione una reazione positiva della sua ps perché vede il pericolo nel senso quando se non sei perfettamente centrato se vai in meditazione e non colleghi la parte meditativa alla alla matrix quindi qualcosa di concreto apri semplicemente canali e quindi attiri interferenze o fai sì che le tue interferenze possano prendere la tua energia c'era fatto un canale diretto e quindi la vedo già prima quando lo diceva ho visto proprio che la sua ps che blocca questo processo perché è cosciente consapevole che aprirebbe un canale diretto con l'interferenza vescica diciamo un effetto di questa staticità che gli provoca l'entità mentale di livello 5 livello fisico è come se questa questo peso diciamo fermasse a volte fermasse i muscoli vescicali ok quindi fanno fatica a contrarsi immagine che ho in eterico e così è questa se le mettesse un peso di e quindi fa fatica a contrarsi proprio vedo il pavimento pelvico ok che fa fatica a fare questa cosa contrazione quindi c'è questo problema vescicali ma a una cosa che non ho capito se c'è la causa esoterica dell'entità mentale di livello 5 ok nel sonno essi un uomo si le fa bu si accorge si accorge ogni tanto si accorge che le stanno facendo delle abduction e quindi in quei casi di riesce a non farsi prendere amalo quello che ha fatto boom chi è è una vita no no è una specie di chiamerei omino nero più o meno che diciamo il gallo pino di ashtar c'era quindi è un pleiadiano se chiara lo vuole mettere in un portale dell'oblio certo mettiamolo il signor b va nel portale dell'oblio cause soterica del fatto che il marito e il figlio se la litigano figlio un bambino piccolo sono tutte e due sia il figlio che il marito sono due anime affini sue ok è incarnata l'anima la fiamma gemella dichiara sì c'ero vista subito e ma non parlavo perché stavo guardando quello che mi faccia vedere si incarnata è una donna schimese quindi non hanno deciso di vedersi no così ah no anzi proprio è la posta per perché non si vedono perché devono fare delle cose da soli esatto quella parte la parte di ps che si è incarnata nelle schimese sta rifacendo l'esperienza della solitudine ma proprio solitudine la c'è quindi la quando era medico tra solo ma simbolicamente nel senso che da tutta la sua vita per gli altri ok lì è proprio solo c'è solo quella donna e schimese ed è isolata completamente quindi fa la vita concreta quindi deve pensare esclusivamente a sé che era molto preoccupata per i cini vacca ci ha chiesto di fare delle indagini ma non ci sono delle indagini da fare nessuno può sapere quello che succederà al contrario ci può essere un appunto l'indagine diciamo ai stupidi cini vacca che è in positivo quindi uno non si infila nell'argomento negativo in cui vogliono noi tutti ci infiliamo di cui dobbiamo tutti parlare a cena di cui dobbiamo tutti parlare quando ci incontriamo noi parliamo dell'argomento contro argomento positivo qual è il tema esoterico elettricamente parlando del 2022 risolutivo sì io vedo mente contrastante si vedo che ci sarà questo nuova realtà concreta posso dire così dove le persone che sono state in grado di resistere a questa pressione a questo inganno saranno quelle che avendo fatto questo passo evolutivo di consapevolezza metteranno le nuove basi per una realtà che parte dall'energia della ps la forte energia della ps possiamo dire dell'amore della forza dell'amore sì però ricordiamoci che la chiesa solo in italia che c'è sta minchiata alla fine fuori non è così quindi di fatto quelli che resistono eccetera riguarda l'italia i motivi li sappiamo e vabbè ma qual è il vero tema le fiamme se si è bloccata da possibile possibile che figli di puttana allora ciao elena dimmi quando ci sei di nuovo torniamo alle fiamme in generale attendo però dal caso di chiara chiara e la donna eschi mese sono hanno deciso di non incontrarsi bene fanno parte dei 300 milioni ma non è prevista l'incontro quando però quando però aspetta ci sono delle fiamme che hanno deciso l'incontro e ci sono sempre degli ostacoli che possono essere gli uomini del tempo che possono essere i mentali che può essere di tutto qual è la posta in gioco cioè cosa non dico devono fare le fiamme perché sembra sempre che sia un film ma cosa di fatto succede nella realtà di tutti se tutti questi piccoli ostacoli piccoli o grandi ostacoli in caso di fiamme che hanno le caratteristiche e hanno deciso di incontrarsi le superini le superino o non le superino qual è la posta in gioco perché questo è un messaggio che secondo me è importante capire ed è da scrivere ovunque in modo che chi ha queste difficoltà e ha difficoltà a superarle ci metta più intento a superarle perché in qualche modo ne va della propria evoluzione e dell'evoluzione di tutti c'è noi siamo tutti collegati nel senso ma utile dire è mondo deve se tu che devi evolverti ognuno fa questo discorso e ci troviamo tutti lo stesso quelli di noi che hanno diciamo questa responsabilità quindi devono comprenderla in eterico e non solo questo piccolo ma in fondamentale passaggio quindi chi ha le possibilità e il accordo di rincontrarsi ma non si rincontra ancora perché ci sono degli ostacoli di varia natura ostacoli esterni bypass abili ostacoli interni che dipendono esclusivamente di solito le fiamme hanno una delle due è il più indietro o se non vogliamo dire più indietro con più difficoltà è esatto una c'è già l'altra non c'è ancora ci sta una cosa talmente delicata chirurgica che se che deve essere proprio come se fosse per la nascita non deve esserci tutto il processo per poter arrivare a quella consapevolezza perché non quando arrivi un caso complicato una cosa chirurgica già impossibile che due arrivino just in time nello stesso tempo da film si guardano colpo di fulmine bacio matrimonio fine no ci sono dei cazzi da pelare esatto quelli uomini del tempo interferenza c'era niente ma di cazzare pelare spesso sono interni sì ok qual è la posta in gioco cioè c'è comunque una possibilità di mandare tutto all'aria per questioni interne la possibilità è talmente forte è talmente forte la spinta all'unione che quei rari casi dove quello che più diciamo incasinato a ci deve mettere talmente tanta energia per bloccare questa cosa che alla fine si ammala io mi è arrivato a questa cosa che ci vede talmente tanta mentale tanta fatica per contrastare la spinta dell'unione con la fiamma che non vivi bene per niente però non che stabiliscono sviluppo una malattia ma che sviluppa un malessere costante cioè neanche e neanche e come contrastare qualcosa di incontrastabile nel senso che nel momento in cui ci si riconosce è praticamente impossibile tornare indietro quello che abbiamo già detto più volte no scusa devi ripetere perché ti sei mezza bloccata vai trovo elena ecco sì 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 adesso sì vai ma ci sono ci sono stavo dicendo sì che talmente cioè ci devi proprio mettere un impegno enorme per contrastare la consapevolezza evolutiva che la fiamma ha trovato che la ps ha trovato nelle due fiamme e ci ha messo vite 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 per arrivare qua c'è e come fare i quadri di 12 ore e arrivare a un centimetro d'altra guarda dire ba non lo so ci vediamo vediamo non ci penso a guarda lì c'è una formica la guardo poi io guarda c'è il sole e c'è un centimetro dal traguardo questo e in ogni caso stai spingendo verso la parte opposta del traguardo perché è una forza ti sta attirando verso il traguardo quindi passa la tua vita così con un pazzo esatto o dopo un tot di tempo lascia andare e tutto si compie molli esatto esattamente molli proprio fu lasciamo un ad eternum sui 300 milioni in percentuale quanti in questo momento sono si sono riconosciuti grazie allo specchio ma sono in fase di di avvicinamento di di gestione della cosa il 15 per cento ha già fatto questa fase e sono già uniti e quindi dell'altro 80 85 che si sono visti e sono in questa fase 35 mi viene che sono in frase e gli altri no e si sono già visti sono già riconosciuti e stanno facendo questa fase è turbolenta si l'altro 50 per cento si sono visti nello specchio ma sono ancora ai passi prima quindi devono solo capire ai passi prima ma quindi non ancora capire dove uno l'altro ma e qui siamo al 100 per cento però i 300 milioni quindi sono quelli che possono incontrarsi non comprendono le fiamme come chiara e la donna schimese sono fuori dai 300 milioni quelli sì 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 e sono fiamme ma non inattive inattive esattamente vedo addirittura che fuori che in questo caso non c'è neanche il collegamento in questa vita bene coraggio decisione forza una d'eterno con questo messaggio a tutti specialmente al 35 per cento degli indecisi il 15 per cento di quelli risolti ok vabbè il 50 per cento dei primi passi ok anche allora ovviamente perché si va tutti in una direzione se chi non va nessuna direzione come la cognata o quella degli angeli se ne va non stiamo più lì a dare poverina cicini perché rallenta ormai bisogna non si blocca non essere rallentati diciamo non possiamo più uscire da questa cosa se in più nessuno interferisce nessuno secondo fa una scelta qualunque sia del cazzo non del cazzo sono fatti suoi preferire con lui ti vuoi infilare gli altri infilateli fine a me va benissimo infilateli loro per i coglioni e me però ti ho detto che ho detto filati di tutti gli altri che volete dove volete anche lì coraggio decisione e forza grandi ad eternum a ognuno di queste persone questo è un lavoro contro il cini vacca questo è un lavoro contro il cini vacca perché ogni coppia di fiamme riunita è una centrale nucleare gigantesca tantissima ogni se il 35 per cento anzi 300 milioni perché se vanno tutti in porto sono 300 milioni sono il 3 per ecco 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 il 3 per cento a massa critica critica al massa ma da fastidio che cosa quello di critica massa certo che da fastidio siccome da fastidio alziamo tutte le nostre frequenze tour le migliori le rialziamo alziamo le alziamo le alziamo facciamo un bel forno mettiamo tutta la sessione in una scatola che vibra altissimo ma quanto un milione di miliardi ok causa esoterica della perdita di una parte della mano in seguito non lo dico così non si riconoscibile in seguito un incidente con un animale da bambina se poi quello che vede specifico puoi anche dirlo ora ps con che non sarebbe stato è un'esperienza che voleva fare conoscia che non sarebbe stata una cosa portale ha fatto a fare causa esoterica della curiosità innata per la sua grado di consapevolezza della ps si ricordava quando quando chiara è nata la ps si ricordava vagamente il punto in cui era arrivata è come se avesse avuto questo al vago ricordo di di qual era la direzione principale verso quale andare per aumentare la consapevolezza che quindi la curiosità era proprio il suo punto fermo posso fare tutto è ma non mi deve mancare quella strada che io voglio sempre tenere ok c'è quella della curiosità quindi qualsiasi cosa lei si faceva domande su qualsiasi costa e quella è sempre stata la sua linea guida figli tardi causa esoterica allora diciamo allora non c'è più non ci sono più non c'è più queste interferenze degli uomini del tempo ma c'erano questi uomini del tempo che hanno fatto sì che non nascesse il figlio prima che nascesse tardi perché perché questa ps di questo figlio che un anima fine è riuscito a contrastare gli uomini del tempo ed è riuscito a nascere ma diciamo la ps è riuscita con la ps del figlio a far sì che questo avvenire chiamiamo il disincarnato padre abbiamo il portale aureo e apre chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di chiara l'unico che ha solo solo che ha una voce in capitolo per raccontarci e dirci delle cose è il padre quanti sono i disincarnati che si presentano 103 ok tutti i morti da cvac tutti dentro quanti sono nel frattempo è ovviamente di 3927 23 mila o 3000 mentre padre pensa cosa lasciare come messaggio alla figlia ma andiamo mille ad eternum a moloch così regalo di nuovo anno uh huh la scena era bellissima che c'era e domolo fuori dal primo diverso perché riesce più entrare noi che li tiravamo gli ad eternum è presente tipo quegli uomini che passano e notti tipo sale quei sacchi tipo tirare i pugni per i bimbi che partono dalla terra da terra no che hanno una base ecco modo che era tipo tipo così con la base lì e ogni ad eternum che arrivava lui andava indietro una scena carinissima bella loro milione non mille città un miliardo meglio ma non è che ci rinventiamo sono veramente un miliardo ma man mano che ritiriamo neutralizza l'energia che lui è riuscito a prendere dei morti è come se fosse una un lavoro in più oltre a portare tutti i morti di cineva che nel portale aureo quindi già li portiamo via quella parte lì questo a neutralizza ancora di più tutta l'energia dei morti che lui ha preso ok che cosa dice il padre allora padre dice adesso che è tutto chiaro che è un gioco che è solo questione di ruoli mi rendo conto che mi sono dannato nell'affanno di come se lui si fosse trovato nell'affanno dei soldi diciamo di dover guadagnare per poi vivere allora diciamo lui ha cercato in tutti i modi di guadagnare bene per poi vivere bene ma come se si fosse perso in questo meccanismo ok e quindi prima affanno del denaro poi caos adesso che funziona dice è tutto relativo no dimmi dimmi che non si è sentito scusa che è molto disturbata dimmi ripetimi infatti non ti sentivo sì quindi è andato tutta rotoli e lui vede che il essere così come si è disturbato per tutta la vita non era necessario ecco diciamo che adesso vedendo come funziona ha assimilato l'esperienza ea chiara vuole solo dare un grosso abbraccio e un bacio li salutiamo allora tutti i disincarnati che si sono presentati che forse sono già andati e il padre è un viaggio voi che non siete qui in questa bella matrix a trivolare e avete finito o quasi bene e andiamo al cluster con chiara ora che abbiamo visto tutto abbiamo messo l'uomo che ha fatto bu nel suo portale definitivo anzi il suo portale dell'oblio se come vede i suoi contratti come poter essere sono tipo vedo tipo dei semicerchi di potrebbe essere cartone cartoncino tipo ok colorati con delle dove c'è scritto su nome di ogni vita tra virgolette come se ogni vita ha un nome ma come fra i campionari di colori sì esatto è come se fosse ogni vita come se fosse come se avesse il titolo di un film ok c'è un bel fuoco c'è un bel portale definitivo li venivano tutti gli eliminiamo tutti chiusi chiusi il portale definitivo sta creandola d'eterno fatto vedere come si fa appoggiato lì ok andiamo all'avatar come lo vede fa un po lo sprufone nel senso che come atteggiamento come se quello che siamo noi che andiamo con c'è l'atteggiamento che a lui è come se noi andassimo lì a chiedere qualcosa va bene fuori intanto definitivo sono stufo stanco non me frega più niente degli avatar sono aria fresca inesistente un programma che fa lo sprufone proprio guarda non è proprio giornata vado a fare programma scomposto in bit nel portale definitivo oggi è così turezza vuoi usare gli angeli fare reiki vai quella porta ti vai fa ti fai le pere dalla mattina alla sera dottoressa o infermiera fuori dalla porta vai è una tua scelta e noi la rispettiamo perché ti vogliamo bene ti rispettiamo però nessuno fa più la zavorra di nessuno non c'è più tempo di andare veloci le palle sono piene e siamo tutti stufi quindi alcuni a destra alcune a sinistra che c'è c'è chi non c'è non c'è l'avatar non ci serve fuori via ad eterno fatto queste sono cose che dovrebbero sapere fare già tutti ma non si sa perché hanno le fanno 5 ad eterno un corpo fisico e chiara il corpo emozionale corpo mentale eterico e subliminale chiara la mamma la moglie ora sta facendo tante cose davanti al figlio al marito e tutti quelli che sono nel cinema li crea il figlio se vuole impara se non vuole non impara il marito se vuole impara se non vuole non impara il marito che maggiore ne può vedere delle sessioni se non lo vuole vedere non li vede lei si alza le frequenze in questo modo mette una d'eternum in casa ma di fatto promette per se stessa non pulisce la casa per il figlio o per il marito il figlio e il marito che accettano la d'eternum che ne mettono uno accanto se lo vogliono e se vogliono partecipare a questa pulizia di fatto nessuno aiuta nessuno se non noi stessi noi stessi quindi non è arrivata chiara che salva tutti in casa chiara fa vedere il suo esempio a marito e figlio marito e figlio poi decidono se coraggio decisione forza abbiamo detto prima quella pillola particolare nuova che abbiamo dato agli addormentati o ai litigati ora la diamo anche al figlio e al marito che non sono addormentati litigati ma coraggio decisione forza servono sempre che danno come risultato l'onore se nuova frequenza dichiara 197 miliardi nuova percentuale di consapevolezza 186 rapporto psp 6238 si sono invertita perfettamente vite precedenti 1816 cervello 96 messaggio finale a chiara della sua ps quello che la cosa principale che vuole trasmettere a chiara è che così gli vuole dire la tua realtà la credito ok indipendentemente da quello che succede fuori quindi quello che tu già stai creando per tuo figlio puoi crearlo anche per te quindi dice che anche rispetto al lavoro lei ha le capacità e la la forza e la consapevolezza per crearsi un lavoro indipendente dal sistema e da quello che succederà fuori poi ti dice per rimanere centrate allenarsi ad alzare le vibrazioni e comunque a cercare di andare verso sempre verso la sua consapevolezza quindi un utilizzo del cervello sempre più alto mi fa vedere chiara in casa sua che allora l'immagine che mi dà è chi lavora tipo sulle pareti e sui soffitti ok come se in casa sua lei mettesse delle delle spirali come se mettesse delle spirali che possono essere c'è questo è quello che mi fa vedere in eteri come poi cerchiamo di tradurlo nel concreto ma non so come se mettesse delle spirali di gesso o di cartone o di carta no quindi io la vedo con questa ma è come se le creasse tramite la casa o comunque nelle case non lo so negli ambienti può essere delle decorazioni ecco delle decorazioni sulle pareti non so se le piace dipingere o comunque fare delle cose sculture esatto questo è il messaggio questo è il messaggio per le vibrazioni questo è per rimanere centrata ok anche allenarsi diciamo per le vibrazioni ma principalmente per le vibrazioni vedo lei che cammina questo succede spesso e che cammina in questo sentiero nel bosco questo prato e con dei grossi respiri mentre inspira aumenta le vibrazioni poi espira poi le ri aumenta ok quindi vedo questo tipo di allenamento quello che lei prima diceva che la meditazione non riesce a farla da ferma e va benissimo perché li ha presso i canali e non è non è molto buono se uno non è in grado di essere completamente centrato ma se tu fai una specie di meditazione mentre fai qualcosa quindi nella natura così potrebbe essere ti piace fare l'orto anche l'orto a strappare le erbacce come la vedi chiara adesso con le sue due anime gemelle in casa sì allora chiara la vedo prima poteva essere che lei era tipo prima l'immagine che mi dà di prima era statica ferma con loro che gli giravano intorno come se li avessero messo un cerchio intorno no e continuano a girare di lei in mezzo ferma adesso io la vedo lei dinamica quindi che cammina e corre anzi e loro due dietro che come se la prendessero per esempio no quindi la seguissero verso notevolezza sono finito come stai elena bene ok il 35 per cento degli indecisi è ancora un 35 per cento al momento allora direi un 2 per cento tra il 2 e il 3 si sta muovendo si sono hanno sbloccato proprio grazie a questo lavoro poi fai due verifiche poi mi dice va bene disconnetti ti